Grazie Filippo, buonasera a tutti. Per noi è un grande piacere essere qui oggi ospiti del forum di seguaglianza e di diversità e vi ringraziamo davvero per questa opportunità che ci date. Oggi è stata una giornata di grande interesse, confesso di aver potuto seguire un po' spizziche bocconi le giornate precedenti, ma ho già approfittato delle registrazioni che certamente aiutano a recuperare connessioni importanti e significative. Io sono Francesco Suttile, componente del comitato esecutivo di Slow Food Italia e quando Fabrizio Barca mi ha telefonato per proporre questo spazio a Slow Food non ho avuto esitazione a rispondere positivamente perché le nostre strade trovano molti punti di incontro e la partecipazione al confronto è sempre un'occasione da cogliere al volo. Noi siamo Slow Food, un'associazione di dimensione internazionale che ha mosso i suoi primi passi in Italia come Archigola nel 1986, divenendo poi Slow Food definitivamente nel 1989. Negli anni che seguono poi l'astività associativa ha attribuito progressivamente centralità a temi che ruotano intorno al cibo con un forte connotato relativo alla dimensione produttiva ma anche politica e sociale e con una diretta relazione con le realtà legate ai piccoli produttori, ai saperi tradizionali, al rischio di scomparsa della biodiversità, legato di più alla biodiversità di cultura e di conoscenza che stanno alla base della vita di ogni comunità. In Italia Slow Food è un'associazione di promozione sociale e opera attraverso la realizzazione di una serie di progetti, alcuni di durata anche trentennale. I progetti rappresentano chiaramente lo strumento operativo di tutta l'associazione perché sono il modo di vedere il territorio partendo dal contesto del territorio stesso, guardando il territorio dall'interno e non dall'alto o dall'esterno. Ciascun progetto quindi assume un connotato diverso pur muovendo i passi attraverso la medessima riflessione, la medesima riflessione politica. Tra i più importanti progetti ricordiamo l'Arca del Gusto, i presidi Slow Food che sono probabilmente rappresentano il progetto più noto, i mercati della terra, l'alleanza Slow Food dei Cuochi, l'Orto in Condotta, la comunità, il più recente progetto sulla comunità del cambiamento ma anche Master of Food e gli eventi Terramadre Salone del Gusto, Slow Fish, Cheese che sono gli eventi che ci caratterizzano a livello internazionale. Sono tutti progetti che ruotano intorno al cibo ma che viaggiano su un binario comune che è la visione unica che Slow Food ha maturato nel tempo sul tema della biodiversità e della sua conservazione. Non solo genetica quindi ma cultura, saperi, relazioni, ecosistemi e tanto altro. Oggi noi abbiamo accolto questo momento di condivisione all'interno di questo straordinario programma di confronto organizzato dal forum perché riteniamo utile presentarci con i nostri contenuti e per farlo abbiamo deciso di usare uno strumento che in questo momento ci caratterizza moltissimo. È un documento che noi chiamiamo call to action, la chiamata all'azione, un documento che abbiamo sviluppato quale strumento di discussione di un percorso che ci porterà nel 2021 a celebrare il nostro congresso internazionale, quindi è uno strumento di lavoro per i prossimi mesi. La call to action coinvolge oltre un milione di attivisti nel mondo, circa centomila soci, migliaia di nodi della nostra rete e mira a sostenere l'importanza dell'importanza del senso di comunità. E la call to action sviluppa il nostro modello sostanzialmente su tre pilastri che nella qualità di pilastri rappresentano quindi le fondamenta della nostra visione politica. I tre pilastri sono biodiversità, educazione e advocacy. Intorno a biodiversità, educazione e advocacy si concentra praticamente il nostro modo di vedere il mondo nei prossimi anni. Chiaramente non è facile separare un tema dall'altro. Biodiversità è strumento di educazione per noi, advocacy e di advocacy e attraverso i progetti educativi vogliamo certamente consolidare anche una visione di importanza sulla conservazione della biodiversità. Per questo probabilmente rappresenta, la call to action rappresenta davvero il modo migliore per presentarci. Lo faremo a più voci. Inizierà Serena Milano, segretaria generale della Fondazione per la Biodiversità di Slow Food e poi Barbara Nappini dalla Toscana e Michele Sozio dalla Puglia che rappresentano leader della nostra rete nei territori grazie allo sviluppo di progetti di formazione e di consolidamento del nostro percorso. Io poi mi riserverò di fare alcuni commenti conclusivi per chiudere la presentazione di Slow Food. La parola dunque a Serena Milano. Allora, eccomi, eccomi qua. Buonasera a tutti, quindi la mia parte riguarda in modo specifico la biodiversità e io parto da spiegare che cosa intendiamo perché biodiversità è un concetto molto ampio e è la diversità della vita. Dentro c'è tutto, ci siamo noi, c'è il pianeta. Allora, la biodiversità di cui si occupa Slow Food è quella legata all'agricoltura e alla produzione di cibo che è una biodiversità che sta scomparendo a un ritmo impressionante, non abbastanza noto. Ma che significa esattamente? Allora, faccio proprio la lista di cosa comprende questa biodiversità. Le specie, le varietà vegetali che i contadini, che comunità, generazioni intere di contadini hanno selezionato e creato in millenni di agricoltura. L'agricoltura ha diecimila anni di storia e noi siamo riusciti in settant'anni di agricoltura industriale a distruggere i tre quarti di quello che era stato creato prima, che è un dato impressionante. Abbiamo perso più del settanta per cento delle varietà vegetali che erano state selezionate. In certi paesi del mondo si arriva al novanta, quindi una cosa assolutamente drammatica. Poi riguarda le razze animali domesticate, altro patrimonio genetico e culturale dell'umanità, sono quasi tutte a rischio. In Europa solo il sette per cento delle razze di bovini, ovini, caprini, avicoli, non è in pericola. Poi riguarda gli insetti. Sembrerà strano, ma Slow Food si occupa anche di insetti, in particolare di impollinatori, da cui dipende l'ottanta per cento delle principali culture alimentari. E anche qui i dati sono drammatici. In Europa le api sono calate del quaranta per cento, le farfalle oltre il trenta per cento. E poi anche la biodiversità che non si vede, i microorganismi. Non si vede ma è la più grande, la più importante in assoluto. È alla base della nostra vita. Sto parlando della biodiversità, soprattutto quella del suolo. I due terzi di tutti gli esseri viventi vivono nel suolo e senza fertilità del suolo non c'è nulla, non c'è cibo, non c'è vita. Sto parlando anche della microflora che permette di produrre la maggior parte dei cibi, alla base di tutte le fermentazioni, quindi pani, formaggi, salumi, birra. Tutti questi prodotti sono frutto di microflora. E anche questa sta scomparendo, è ancora meno noto, perché l'industria alimentare tende ad azzerare questa microflora e a sostituirla con lieviti e fermenti industriali. E poi, come diceva Francesco, sto parlando di biodiversità culturale. Tutto quel bagaglio incredibile di tecniche che hanno permesso di coltivare in ogni angolo del pianeta, si pensi ai terrazzamenti o a sistemi idraulici raffinatissimi che hanno permesso di coltivare perfino nel deserto e tutte le tecniche per trasformare le materie prime, perché quelli che noi ogni tanto consideriamo eccellenze o formaggi, salumi, pani, sono semplicemente le tecniche che hanno permesso nei secoli di conservare il grano, il latte, la carne. E quindi sono anche questo un patrimonio di cultura straordinario. Spesso quello che si percepisce di questo lavoro è la punta dell'iceberg. Cioè si pensa che Slow Food si occupi di cercare e valorizzare le eccellenze gastronomiche. Ma quando parliamo di biodiversità di cibo, in realtà noi non ci stiamo occupando di rarità per appassionati. E provo a spiegare perché. Lo faccio partendo dal principale e più drammatico tema di attualità che ha stravolto la vita di tutti noi, che è la pandemia di Covid-19. E aggiungo anche altri nomi di malattie infettive, Ebola, AIDS, SARS, influenza suina, influenza aviaria. Che cosa hanno in comune tutte queste malattie infettive? Sono tutte, si dice tecnicamente, di origine zoonotica, ovvero trasmesse dagli animali, soprattutto dagli animali selvatici. Sono tutte quante la conseguenza dell'attività dell'uomo sulla natura. E quindi che significa questo? Che gli stessi sistemi di produzione che stanno all'origine della perdita di biodiversità, stanno all'origine delle pandemie. La deforestazione, il consumo di suolo, l'agricoltura intensiva, tutti questi fenomeni aumentano i contatti fra animali selvatici, animali domestici e uomo. E favoriscono la diffusione di queste malattie. Le cause di tutto questo ci possono sembrare lontane, qualcosa al di fuori della nostra portata, qualcosa che ha a che fare con ecosistemi come l'Amazzonia, le foreste del sud-est asiatico. Ma non è così. In Brasile, pensate, l'area coltivata a soia è grande come la Germania. Provate, io quando ci penso, rabbrividisco. Provate a immaginare di viaggiare da un capo all'altro della Germania e vedere attorno a voi soltanto campi di soia. A immaginare quanta biodiversità è stata distrutta per far posto a questi campi di soia. In quest'area, grande come la Germania, vanno a finire il 25% dei pesticidi prodotti in tutto il mondo. È praticamente un inferno in terra. Ecco, ma quella soia coltivata distruggendo il polmone del pianeta, che è la foresta amazzonica, coltivata con pesticidi, molti dei quali proibiti in Europa perché nocivi per la salute umana, quella soia arriva in Europa, arriva in Italia, arriva in pianura padana, finisce negli allevamenti intensivi, finisce nelle nostre bistecche. Quindi noi quando compriamo un pezzo di carne, inneschiamo una catena lunghissima di conseguenze che possono essere negative, come quelle che ho appena raccontato, oppure positive. Ora, qual è la scelta che secondo noi innesca conseguenze positive? La diversità. In questo caso mangiare meno carne, differenziare, alternare con i legumi, scegliere più specie, non c'è solo il vitello, scegliere la carne che arriva da allevamenti sostenibili, scegliere le razze locali e quindi la biodiversità. E perché le razze locali? Perché si sono adattate, la parola magica è l'adattamento, la biodiversità è adattamento, si sono adattate le razze locali ai territori marginali, sono più rustiche, hanno meno bisogno di cure, di antibiotici, crescono all'aperto. Se noi semplicemente ricominciassimo a nutrire gli erbivori d'erba, perché i bovini, gli ovini, i caprini sono orbivori, anche se lo abbiamo dimenticato, invece di farcirli con mangimi iperproteici, noi faremo una scelta salutare per il pianeta, salutare per noi, ma anche salutare per la nostra economia, per tanti territori del nostro paese. Potremmo, ad esempio, dare un valore straordinario ai pascoli delle Alpi, che sono fra i più ricchi d'Europa, anzi, i più ricchi d'Europa in termini di biodiversità dei pascoli e delle erbe. Quindi la biodiversità può essere uno strumento di riscatto, di rinascita, di rigenerazione per moltissimi territori, proprio grazie a questa parola magica che è adattamento. Anche tutte le varietà tradizionali vegetali sono sopravvissute, si sono adattate a ogni area e sono sopravvissute, soprattutto nelle aree che impropriamente chiamiamo marginali, ma che sono, per indicare appunto le aree più difficili, più impervie, le aree di alta collina, di montagna, dove non è stato possibile sviluppare forme intensive di agricoltura come nelle aree pieneggianti. Vi faccio ancora... ho tempo a fare un altro esempio, Francesco? Un minuto. Allora non lo faccio, l'altro sì. No, faccio un ultimo esempio di come la biodiversità potrebbe essere una soluzione. Parlo della Sardegna, non se ne parla più, ma i pastori sardi sono alla fame. Gli abbiamo visti versare latte in strada nel 2018, nel 2019, poi ce li siamo dimenticati, i politici hanno fatto promesse, nessuno ha fatto nulla e cosa succede? Sono alla fame in un'isola che è un paradiso in terra. Potrebbe essere il paradiso della pastorizia, a territori incontaminati, pascoli ricchissimi, tre milioni di pecore che pascolano all'aperto. Potrebbe essere la meraviglia in Europa e nel mondo. E invece sono alla fame. Perché sono alla fame? Perché si è persa la diversità. Invece di fare formaggio, invece di produrre pecorini diversi in ogni territorio, e c'era una tradizione straordinaria, c'è ancora. Si fanno formaggi come il fiore sardo, la sridda, che è un pecorino che stagiona nella terracotta. Invece di andare avanti con questo straordinario patrimonio, si è deciso di, si è puntato sull'industria. Grandi caseifici, grandi consorzi, vendita del latte invece di caseificazione, risultato latte sottopagato, produzioni eccessive che non servono a nessuno, di formaggio banale, pecorino romano, pecorino sardo pastorizzato. E quindi un'intera economia messa in ginocchio. Tornare, puntare sulla biodiversità sarebbe quindi la strada per uscire da questa crisi. Conclusione, 30 secondi per concludere. Quindi il cibo e la biodiversità, secondo noi, possono indicare la soluzione. Noi abbiamo tutti quanti una responsabilità e un potere. Abbiamo la responsabilità di informarci, di conoscere. Non dobbiamo mai sottovalutare l'importanza di quel che arriva nel nostro piatto. Conoscere e scegliere non è un capriccio da gourmet, è fare politica. Forse la più importante che si possa fare in questo momento storico. Grazie mille, Serena. Grazie. Do direttamente la parola a Barbara. Vedete? Ti vediamo, sì. Ciao. Grazie a Francesco, grazie anche a Serena. Io, sì, sono Barbara e vi vorrei parlare di educazione, in particolare dell'educazione secondo Slow Food, che prova effettivamente ad essere un fermento. Noi abbiamo iniziato a democratizzare l'educazione più di 30 anni fa. Cominciamo negli anni 80 perché proviamo a portare l'educazione in luoghi informali, altri. Qualcuno provò a versarla nei calici, a servirla nei piatti, a offrirla nei mercati, tirandola fuori dalle classi scolastiche e coltivandola negli orti e allo stesso tempo portando sui banchi di scuola invece mani sporche di terra e rastrelline. Il cibo negli anni 80 era un argomento estremamente banalizzato da una comunicazione pervasiva che mirava ad enfatizzare al massimo la velocità e la praticità anche nel cibo. Veniva promosso il fast food e in generale la fast life, modelli moderni, industriali, che miravano a soppiantare invece quella tradizione popolare e rurale legata alla tavola, al convivio, al cibo come elemento prezioso o finanche sacro. In quel periodo questo tipo di cultura doveva essere stigmatizzata a favore di un pragmatismo funzionale al consumismo. E allora Slow Food cominciò a proporre ad adulti che in realtà avevano già completato la loro formazione, a professionisti affermati, a artigiani esperti, a chi conosceva già molto del mondo, di ascoltarci parlare di radicchi, di fagioli, di pane, di frutti antichi, di vino, di olio, in generale di cibo. E il tema cominciò a diffondersi. Allora a quel punto cominciamo a dar voce, a far parlare direttamente chi quel cibo lo produceva, casari, pescatori, allevatori, agricoltori, tutte quelle persone che la modernità aveva semplicemente cancellato dal nostro scenario, al fine di farci credere che il cibo, esattamente come ogni altro prodotto industriale, si generasse direttamente sugli scaffali, già nella plastica e con le etichette sgargianti. Slow Food dette voce invece avevano coloro che quel cibo lo producevano davvero e ci raccontarono come veniva prodotto, perché veniva trasformato in un certo modo, ci accennava prima Serena, quale fosse il significato di un certo allevamento, di una certa agricoltura, di una certa gestione del paesaggio. L'importanza che queste pratiche avevano per un territorio e per la comunità soprattutto. Queste voci cominciarono a farsi sentire. E a quel punto fu necessario documentare, valorizzare questo patrimonio di sapere e di saper fare, che era letteralmente nelle mani, ma anche negli occhi, nella memoria, nella cognizione dei produttori di cibo. Era quella che garantiva, lo diceva appunto bene Serena prima, quella biodiversità sia ambientale, genetica, che culturale, di cui oggi più che mai è importante parlare. E fu appunto a quel punto che cominciamo a trattare anche i temi della biodiversità, si parlò di sovranità alimentare, di orti in Africa, di equità distributiva, di agroecologia, land grabbing. Oggi di crisi climatica e anche di Covid-19. Perché questi argomenti sono indissolubilmente legati al cibo. Riguardano tutti e tutti noi. Negli anni della comunità virtuale si è reso evidente come occuparci di territorialità e dei sistemi locali del cibo e di piccole comunità implicava anche uno sguardo di insieme al pianeta. Il molto piccolo e il molto grande sono indissolubilmente intessuti e secondo noi il filo rosso che li lega è per l'appunto il cibo. Quindi la fast life da una parte ci voleva depotenziati dalla fretta, dal pragmatismo, da una certa deprivazione sensoriale, dal rifiuto della complessità. Ma noi sapevamo che sentire, connettere, conoscere ci consegna il grande potere della scelta per chiunque tutti i giorni. E allora abbiamo ridato importanza e sensi sui banchi di scuola. Abbiamo appreso seguendo un carrello al supermercato, tra gli scaffali, frequentando le mense per capire cosa servisse nelle mense affinché fossero buone, pulite e giuste. E siamo andati nelle fattorie, nei laboratori di trasformazione, nelle cucine delle osterie ad imparare. E tutto questo ci ha permesso di cambiare le persone, le comunità, attraverso le relazioni. E nelle relazioni siamo insegnanti e studenti al contempo. E quindi quell'istruzione per scegliere le materie prime e dove acquistarle, ma anche per autoprodurre una parte del proprio cibo, per cucinare, preparare e apprezzare un pasto, curare la propria salute e sapere come la materia prima che scelgo impatta sull'ambiente. Dialogare con l'alterità senza paura. Ho letto qualche giorno fa per prepararmi la vostra bella sezione Wikiforme e c'era una citazione significativa di Amartya Sen che diceva «Astenersi dal mangiare è cosa ben diversa se frutto di una scelta di protesta, quindi segno di libertà e uguaglianza, ovvero dell'impossibilità di trovare o acquistare gli alimenti, segno di illibertà e disuguaglianza». Ecco, oggi il cibo è parlato da molti. Le parole che sentiamo come il nostro in realtà sono spesso utilizzate e a volte anche a sproposito, ma lo stesso ve lo che è importante è che si è avviata una riflessione ampia che ha coinvolto e appassionato un largo numero di persone e alcuni di essi sono diventati anche nostri associativi. Slow Food oggi deve continuare a democratizzare l'educazione nell'ambito del cibo, perché come si è detto, questo tipo di educazione include temi antropologici, sociali, scientifici, sanitari, filosofici e sapere di cibo vuol dire di interessarsi alla propria sopravvivenza e a quell'altrui. Non è un caso che il titolo del nostro Terra Madre quest'anno sia «Our Food, Our Planet, Our Future», quindi il futuro nostro e anche di tutti gli altri. Dobbiamo continuare, è doveroso per Slow Food, da un lato tenere alto il livello della discussione nei contenuti, affinché appunto non vengano mercificati, dall'altro però continuare ad esercitare l'educazione in maniera permanente e informale e in questo le reti locali, le nostre aggregazioni, condotte in comunità, nei territori anche più marginali, continuano a praticare nelle maniere più creative, diffuse e popolari quell'educazione che ci rende liberi appunto. Tra queste comunità ci tengo a ricordare le comunità dei migranti, perché parlare di migranti nel 2020 significa appunto attraversare molte delle crisi che viviamo, climatica, ambientale, alimentare, sanitaria, ma diffusamente umana. E allora nella nostra interazione con loro si è delineata una narrazione di aggregazione, di riscatto, di leadership anche, di dignità, a partire appunto da un soggetto potente che è la comunità. in questo modo informale di aggregarsi così importante, di cui c'è così tanto bisogno. In effetti incontrare pastori, casari, pochi apicoltori che esercitano nel nostro paese, nel paese d'arrivo, la loro diversità è stata per noi un'opportunità preziosa di contaminazione e contatto. E chiudo proprio su queste due parole, ringraziando il Forum per l'ospitalità e sottolineando che il cibo è ospitalità e quindi è legato al dono. E vi lascio con un breve brano tratto da un piccolo saggio che si chiama Il lievito del dono, da Chocnard Dumos, che dice questo, La regola dell'ospitalità è quella di accogliere e onorare lo straniero, perché ciascuno di noi è a sua volta uno straniero in cerca di ospitalità. Chi è ospitato, ospiterà a sua volta. Chi ospita, verrà ospitato. Ciascuno dà e riceve il dono dell'accoglienza. Noi oggi oscilliamo continuamente fra la perdita progressiva di comunitas e la ricerca ossessiva di immunitas. Perciò abbiamo paura, perché il vero pericolo non è l'altro, ma è la nostra solitudine. Se il contagio dell'altro è la ragione del nostro malessere, il contatto con l'altro è la ragione del nostro benessere. Inseparabili come due gemelli siamesi, contatto e contagio, circolazione e infezione, sono due anime del sistema mondo. Gli attivatori della vita, la madre dell'aceto, i semi, il lievito del pane, sono competenza delle donne, custodi di tutto ciò che cresce. E questa azione è ripresa in molte parole che indicano per l'appunto il lievito, che si chiama Pasta Madre in italiano, si chiama Mother Yeast in inglese, si chiama Merle Veni francese. Ecco, ci teniamo ad essere il lievito che permette un pane da condividere. Grazie. Grazie a te Barbara, davvero. Grazie. Parola a Michele Sozio adesso. Grazie, grazie a tutti. Mi accodo ai ringraziamenti di Francesco, di Serena e di Barbara per averci ospitato in questo forum, per averci concesso questo spazio. Io mi occuperò di advocacy, parlerò dell'ultimo pilastro, anche se non è meno importante, come si dice in inglese, last but not least. Sono qui anche in qualità di portavoce dei giovani Slow Food, parlerò di advocacy, che effettivamente cos'è per noi di Slow Food. è un partecipare alla costruzione del futuro, con delle vere e proprie azioni politiche, partendo dal locale, dove siamo praticamente, non dico bravi, ma siamo molto bravi a percepire anche i bisogni degli agricoltori, e tramite le nostre condotte, le nostre comunità, a fare un vero e proprio lavoro di cambiamento. Questo cambiamento è il paradigma che parte anche da un'aggregazione di persone che credono in questo cambiamento, e noi ci crediamo. Diciamo che come gruppo giovani, proprio a testimoniare questa advocacy, giusto per darvi anche un esempio, abbiamo lanciato a marzo, quindi in pieno periodo Covid, una campagna contro il caporalato. È nata da cosa? È nata da un'esperienza a Mesagne, quindi sud, in Puglia, in ottobre del 2019, dove c'è stato questo incontro in un campo libera, fra i giovani di Slow Food e i giovani libera. Ed è nata questa simbiosi, questo modo di poter parlare di legalità del cibo, perché una cosa che molto spesso sottovalutiamo è proprio tutto ciò che sottostà, come abbiamo detto noi, il buono pulito, ma anche il giusto, la giusta remunerazione e, come dire, il giusto prezzo da pagare per il cibo. E lì, diciamo, dopo questi cinque giorni, anche proprio vissuti sul campo, nel percepire anche quelli che erano i terreni confiscati, la mafia, e via discorrendo, ci sono venuti in mente diversi spunti, fra cui uno, quello di aumentare la consapevolezza nei consumatori circa quello che mangiano quotidianamente. E cosa mangiano quotidianamente gli italiani? La salsa di pomodoro. E quindi abbiamo iniziato a ragionare, a pensare come potevamo fare per sensibilizzare, fare una campagna di sensibilizzazione dai giovani per i giovani, perché quella era la cosa più importante per noi, era quello di comunicare queste cose ai più giovani. Poi, diciamo che dopo ci siamo resi conto che anche gli adulti non sanno molto di questo argomento, fino al punto di realizzare che effettivamente anche noi non sapevamo diverse cose. E grazie agli ambassador che abbiamo coinvolto in questa campagna, e quindi che ci hanno aiutato a snocciolare un po' quello che è l'argomento. Si dice spesso che l'argomento complesso non può avere una risposta semplice, ma ha diverse risposte che vanno anche a, come dire, capire nello specifico il problema da dove deriva. E, diciamo, la cosa bella, alla fine, è quello che si riconduce un po' con l'advocacy e è venuto fuori quando, dopo il Covid, o comunque durante il periodo del Covid, tutta Italia si è resa conto di questo bisogno estremo che c'era di fare luce su un qualcosa che ormai sapevamo tutti dell'esistenza, non solo caporalato, ma anche proprio lavoro nero, fondamentalmente, e quindi mafioso. Abbiamo capito con la campagna, noi in primis, noi ragazzi che abbiamo fatto la campagna, che effettivamente molto spesso caporalato e mafia non sono proprio la stessa cosa. Caporalato è più una questione culturale. Però, ecco, lascio anche magari la tranquillità di vedersela con calma, abbiamo fatto diversi post, abbiamo fatto anche, abbiamo coinvolto diversi ambassador, fra cui anche Sara Manisera, Marco Mizzolo, Palmisano, Leonardo Palmisano, cioè persone che si impegnano anche tramite le loro associazioni, e questa è l'altra cosa bella, carina, forte, che fra associazioni ci impegniamo per un qualcosa, per un obiettivo comune, soprattutto per una vittoria comune. la cosa che è andata, diciamo, sembra stata, diciamo, come gruppo abbiamo fatto partire la campagna a marzo perché ci sentivamo pronti per poter partire, poi, quando è arrivato maggio, siamo resi conto che effettivamente poi abbiamo mazziccato anche i tempi, perché poi anche in Italia c'è stata quella famosa sanatoria del ministro, della ministra Bellanova, che comunque, diciamo, anche se è molto criticato, comunque noi ci siamo sentiti anche un po' nostro perché effettivamente abbiamo mobilitato un po' anche l'opinione pubblica che è quello, diciamo, era l'intento e quindi si è fatto un pochino più di luce. Quindi non è adesso migliorata la situazione però, ecco, un pochino, un pochino di luce è stata fatta e soprattutto adesso magari faremo andare qualche grafica per farvi vedere anche come abbiamo rappresentato poi questo bisogno di dover capire bene la, diciamo, la questione e anche, per esempio, la questione del prezzo. Ad esempio, durante le campagne, oltre ai video, come vi ho detto, diciamo, di Ambassado, abbiamo queste infografiche, ad esempio, questa è quella che è stata più gradita da tutti, anche perché dicevano qualcosa che a noi di Slow Food sta molto a cuore, cioè tu devi pagare il giusto prezzo perché effettivamente solo così si può avere equità. Come effettivamente adesso stiamo anche nel giusto forum per parlare di disuguaglianze e così effettivamente anche un prezzo giusto giustifica un prodotto che deve essere comprato non che gli altri non meritino però molto spesso dietro a quei prezzi un pochino malati ad esempio anche le super offerte o quello che è il due per uno ecco il prezzo di quell'uno effettivamente lo paga qualcun altro e la cosa che effettivamente poi abbiamo capito dopo questa campagna è che due cose il il consumatore è un soggetto fragile molto molto diciamo suggestionabile dalle pubblicità e via discorrendo e quindi si può fare una campagna a favore nel senso spiegando al consumatore quali sono diciamo anche i meccanismi che sottostanno un prezzo però bisogna limitarsi là e non giudicare perché a un certo punto effettivamente il consumatore è il soggetto debole dove bisogna intervenire sono le istituzioni e qui torniamo all'advocacy che effettivamente è quello è quella diciamo quello strumento che ci permette di interagire comunicare e anche far leva per certi versi su certe dinamiche ad esempio adesso siamo ad un passo da far luce finalmente sulle aste a doppio ribasso nessuno di noi adesso o comunque poche persone sanno che cos'è un'asta a doppio ribasso che è uno proprio che è un qualcosa di allucinante che va a svilire come abbiamo detto anche noi e noi ci teniamo parecchio sul valore del cibo anzi è forse la nostra ragione principale noi facciamo slow food proprio perché crediamo nel valore e nella sacralità del cibo come diceva anche prima anche Barbara e quindi a un certo punto abbiamo concluso questa campagna con un'unica con tante diciamo tanti quesiti tante cose belle e soprattutto una cosa importantissima è che effettivamente è vero che i consumatori sono soggetti fragili ma hanno un potere decisionale devastante entrare in un supermercato e decidere cosa comprare come votare su un futuro che effettivamente vogliamo ed è questo diciamo questo è l'intento della campagna proprio portare alla luce quello che è effettivamente il prezzo che noi riusciamo a diciamo riusciamo a spuntare ma solo esclusivamente perché come dire lo facciamo scontare al lavoro di donne maggiormente perché le donne vengono maggiormente sfruttate rispetto che gli uomini soprattutto nei ghetti a maggior ragione nelle regioni del sud ma la cosa che è stata sconvolgente è che effettivamente non è un problema appannaggio esclusivo del meridione esclusivo del mezzogiorno ma abbiamo esempi anche a Saluzzo in Italia ma ce l'abbiamo anche fuori e quindi ecco che come dire una campagna dà il via a un ragionamento che è molto più ampio diciamo che coinvolge molto più diciamo i piani alti come si dice le parti decisionali e quindi ci rendiamo conto che effettivamente il lavoro dell'associazione è quello di tutelare il piccolo il piccolo produttore che conserva la biodiversità conserva anche la diciamo il giusto metodo la giusta trasformazione di quel prodotto tutelandolo anche da questo punto di vista in cambio cosa abbiamo abbiamo il giusto da lui vuole a dire che noi siamo certi che nei nostri presidi il giusto venga rispettato e quindi ogni agricoltore ha il giusto guadagno che le permetta proprio di vivere questo vuol dire che chiaramente il lavoro nero non è contemplato quindi ecco che diciamo tutto quello che effettivamente potevamo fare durante la campagna non vi ho detto semplicemente perché abbiamo deciso di chiamare questa campagna non vi ho detto come l'abbiamo chiamata e dieta caporolato free lo potete trovare sulla pagina SFIN che è il gruppo giovani di Slow Food Puglia scusatemi di Slow Food e poi c'è effettivamente la pagina istituzionale quella nazionale di Slow Food Italia e effettivamente l'abbiamo chiamato dieta caporolato free perché? perché effettivamente ci siamo posti questo interrogatorio questo interrogativo abbiamo detto possiamo noi in qualche maniera accodarci anche alla moda del free from perché effettivamente i prodotti che si vendono maggiormente sono quelli senza un qualcosa senza un nickel adesso paradossalmente siamo partiti dall'olio di palma si arriva senza qualsiasi cosa è possibile una dieta e quindi un regime alimentare quotidiano libero dal caporolato questa era diciamo la domanda iniziale e la campagna l'abbiamo chiamata proprio così proprio perché volevamo quel determinato tipo di risposte che abbiamo ottenuto ma sono sicuro che ogni campagna poi debba avere anche un effetto come dire positivo anche a lungo termine non si può fermare esclusivamente un breve periodo quindi questo era la parte dell'advocacy continua battaglia continua grazie Michele grazie davvero solo qualche parola di conclusione abbiamo deciso di farlo così di presentarci in questo modo Michele ci ha regalato anche un un esempio tra i tanti di impegno della nostra rete in particolare della rete giovane che ci sembrava anche anche importante testimoniare il tema di questa giornata ci ha fatto sentire estremamente coinvolti pur sapendo che avremmo avuto poco tempo per presentarci abbiamo deciso di farlo così attraverso la chiamata al buono pulito e giusto che è il nostro che non è semplicemente uno slogan ma è una nostra visione veramente politica e l'abbiamo voluto fare lasciando praticamente soltanto delle pillole che chi vorrà potrà approfondire attraverso il nostro evento Terra Madre Salone del Gusto che è partito lo scorso ottobre e che potete seguire quotidianamente attraverso la nostra piattaforma Terra Madre Salone del Gusto punto com che andrà avanti ancora per i prossimi quattro mesi stamattina Mario Ricciardi nella sua rassegna ha citato ha citato la notizia della ricandidatura di Giuseppe Sala sindaco di Milano una ricandidatura basata come ha detto lo stesso Sala sull'idea di voler fare un lavoro diverso rispetto all'idea di voler semplicemente completare un lavoro iniziato oggi dopo questo anno pieno di sofferenze ma anche di tanti spunti di riflessione politica e sociale abbiamo bisogno di guardare al mondo con occhi diversi di misurarci e di mappare l'Italia con un metro diverso un metro un metro diverso che rimanga tuttavia sempre connesso con la conservazione delle risorse naturali e con una visione ecologica che cambi il paradigma generale da ogni parte da ogni parte si avverte e viene riportata come fondamentale l'esigenza di una transizione ecologica se ne parla moltissimo a livello europeo oggi anche in questi giorni parlando di recovery fund ne avete sentito parlare in termini agricoli anche nei giorni scorsi durante gli incontri del forum è assolutamente importante riflettere sul fatto che quando c'è l'esigenza di fare una transizione così netta evidentemente c'è stato un comportamento poco virtuoso in precedenza e probabilmente è importante interrogarci e rendere bene quali siano stati gli errori del passato per comprendere come evolversi nel futuro in un senso più ecologico in un senso più sostenibile temi su cui come slow food dobbiamo dire di essere stati sempre impegnati sin dalla nostra nascita e quindi pensare a modelli diversi di mappatura del territorio mappatura in grado di mettere al centro l'uomo in pieno equilibrio con il contesto in cui deve vivere di vero equilibrio cambiare paradigma non significa soltanto smettere di usare ad esempio la chimica in agricoltura ma come chi mi ha preceduto ha anche sottolineato serve ad esempio a far sì che si sviluppi una sensibilità verso un consumo responsabile in cui il consumatore diventi allo stesso tempo custode del territorio delle risorse naturali e portatore di un messaggio di sostenibilità vera quella concreta in questo contesto e mi avvio a chiudere per noi è fondamentale pensare che possiamo usare in parte l'approccio di cui oggi ha parlato anche Patrizia Longo quando ha citato stamattina l'Italia dei pieni e dei vuoti la visione dell'Italia dei pieni e dei vuoti applicandola nel nostro contesto alla conservazione delle risorse naturali in primis della biodiversità per come oggi l'avete sentita raccontare da Serena da Barbara da Michele una conservazione della biodiversità che deriva da una mappatura mappare e censire la biodiversità per noi è un obiettivo irrinunciabile in qualsiasi ecosistema dalle terre d'acqua fino alle aree di montagne e al contempo mappare nello stesso momento mappare e censire la biodiversità diventa uno strumento di connessione per restituire per restituire sovranità alle nostre alle nostre comunità Bonomi stamattina ha detto che la comunità è un sentiero da percorrere stando attenti a non perdersi ecco siamo assolutamente convinti che se la comunità è vissuta attraverso lo strumento della biodiversità come biodiversità dei prodotti come biodiversità dei territori come biodiversità dei saperi biodiversità dei produttori così come ve l'abbiamo raccontata oggi probabilmente riusciremo a tenere bene in vista il percorso e riusciremo probabilmente anche a a non perderci grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti